L'appello a salvare l'ospedale di Praia Mare e a scongiurarne la conversione in CAPT è stato raccolto dal Presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha ricevuto la lettera inviatagli dal Comitato Civico in difesa del Nosocomio e che ha investito della questione la competente Commissione di Montecitorio. A darne notizia il nome del Comitato è Giovanni Pagano, che ha reso nota la missiva inviata dalla Segreteria del Presidente Fini in risposta all'appello giunto da Praia lo scorso 29 ottobre. La riconversione dell'ospedale di Praia in CAPT, scritto nell'occasione del Comitato, non garantisce, così come sancito dalla Costituzione, il pieno diritto alla salute di tutti i cittadini che abitano quotidianamente o stagionalmente il territorio dell'Alto di Reno Cosentino. In base al piano di rientro dal deficit elaborato dalla Regione, la riconversione del Presidio Sanitario di Praia lascerebbe scoperto un territorio vasto, a 50 km di distanza dal più vicino ospedale. Di qui la richiesta al Presidente della Camera di perorare una giusta causa affinché si potenzi e si mantenga in essere l'ospedale di Praia a Mare, con tutte le necessarie funzioni. Pronta la risposta di Fini, che ha investito nella questione la Commissione parlamentare competente, come si legge nella sua risposta, affinché i deputati che ne fanno parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano opportune.